Ciao ragazzi, siamo a Riora e siamo partiti stamattina alle 4 per arrivare alla bellezza delle 9 e mezza, però stiamo andando, esce una fontana, la fontana delle streghe, che non sappiamo se troveremo mai. Allora ragazzi, questo è da documentare, perché sono delle streghe questa. E non so se... Sto buccio di culo. Perché? E' un po' nebbioso, però è bello, me lo assicuro. È un po' nebbioso, è un po' nebbio. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti